Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale. Oggi sono qui per sviscerare un altro aspetto della vicenda Harry contro famiglia reale. Diversi giornali in questi giorni hanno riportato con grandi titoli la notizia secondo cui Harry starebbe minacciando la famiglia reale di scrivere un secondo libro posto che il contratto che ha con la Penguin Random House prevede quattro libri ma non solo scritti da lui, almeno uno anche da Megan è già in lavorazione. Quindi questo fatto rendeva questa notizia ancora più incredibile. Ma da dove è nata questa vicenda? Harry avrebbe detto o si sarebbe lasciato sfuggire qualcosa di simile nell'intervista che ha fatto al Daily Telegraph. Vorrei fare una premessa posto che se mi seguite sapete che io non sono, diciamo così, dalla parte di Harry non appoggio il suo operato e ritengo che sia un uomo debole, manipolabile o addirittura manipolato. Detto questo credo che sia sempre estremamente importante non fermarsi solo ai titoli perché i titoli dei giornali sono fatti per attirare il lettore, per vendere, quindi più sono scandalistici meglio è. A volte anche quando riprendono in maniera precisa le parole della persona non stanno dando la verità di quello che la persona stava cercando di dire perché tirata fuori dal contesto una dichiarazione può assumere un diverso significato ed è quello che credo che sia accaduto in questo caso. Non penso che Harry abbia cercato di dire guardate che se non mi venite incontro io vi minaccio con un secondo libro. Guardando il contesto dell'intervista mi sono iscritta al Daily Telegraph per voi e me la sono letta per intero. Ho visto che posto che non si diceva molto di nuovo perché era una presentazione del libro Sperr, quindi nel caso andate a vedere i video in cui parlo della trama di quel libro in cui ve la racconto, la giornalista cercava di stabilire una trama nella sua intervista. In particolare Harry diceva che lui si sente qualcuno che sistema le cose, che non ha timore di mettere a disagio un'intera istituzione pur di fare quello che lui ritiene il loro bene. Diciamo che si vede come un eroe. La giornalista che pure è sua amica, una persona con cui lui ha collaborato negli anni passati, ad un certo punto fa un'illazione che sa quasi di frecciata, non so se involontaria o meno, ovvero dice che Harry che credeva che la madre fosse ancora viva o potesse essere viva da qualche parte quando Harry aveva ancora vent'anni è un tipo di fantasia magica che di solito si vede in persone che soffrono di psicosi o comunque di un disturbo ossessivo compulsivo e in effetti quando poi ascolterete la mia recensione su Sperra ho avuto l'impressione che ci fosse un'ossessione di tipo psicologico medico però di nuovo una mera impressione. Tornando a noi ecco cosa ha detto effettivamente Harry quando ha parlato della lunghezza del manoscritto originale di Sperra. Avrebbero potuto essere due libri dice ma solo dopo una certa pausa. Intendeva per esempio che è stato tagliato fuori completamente il suo viaggio in Nepal del 2016, un viaggio che gli ha cambiato la vita perché era di troppo e inoltre c'erano altre cose che lui ha condiviso con J.R. Moringer l'autore premio Pulitzer e è stato molto chiaro nel momento in cui le ha raccontate. Te le sto dicendo per contesto nel senso che voglio che tu capisca qual è la mia vita e quindi il messaggio che io voglio dare ma non voglio che tu le scriva lì. Io in quello che poi lui dice ci rivedo tantissimo un discorso non suo ma che gli ha fatto l'autore. Ad un certo punto Harry dice c'erano cose, dettagli per cui comunque mi potevano odiare che io ho inserito, dettagli della mia vita, ho dovuto parlare di mio padre e di mio fratello perché fra virgolette bisognava poter capire i personaggi e le loro personalità all'interno del libro. Questo non l'ha detto lui, questo glielo ha detto Moringer perché è quello che gli avrei detto anche io, cioè io sto scrivendo un libro con una trama, non posso parlare solo delle tue idee, devono esserci dei personaggi. E di nuovo penso che sia per questo che Moringer gli ha chiesto non censurarti, dimmi tutto quanto perché altrimenti io non posso capire te come persona, non posso capire le tue esperienze, non posso decidere esattamente quale linea dare a questo racconto. Poi Harry continua dicendo ci sono alcune cose che sono successe tra mio e mio fratello e fino a un certo punto tra me e mio padre che non voglio che il mondo conosca perché so che non mi perdonerebbero mai. Qui non si capisce se parla del fratello o del mondo ma penso del fratello e del padre. Ora voi potreste dire che le cose che ho inserito beh già per quelle insomma non mi perdoneranno mai ma per come la vedo io, io sono disposto a perdonarti per tutto ciò che mi hai fatto perché quello che desidero davvero è che tu ti sieda ad un tavolo con me e invece di dirmi che sono paranoico e che mi scenda perché io vorrei che ci fosse una presa di responsabilità e una scusa per mia moglie. Allora ve le riferisco non perché io stia dalla parte di Harry perché io stia tifando perché si concludano così le cose, vorrei che entrassimo nella sua testa secondo quello che sta dicendo. Lui ha detto che a lui piace sistemare le cose, che vuole essere una sorta di eroe, che lo sta facendo per la sua famiglia. Per quello che io vedo su Sperra non è malevolo Harry, non sente di essere malevolo, poi lo è nei fatti ma non è la sua intenzione. Lui davvero ha fatto tutto questo pensando che ci sarebbe stato un modo di comunicare. Quelle altre cose non le inserirà mai a meno che non arrivino a un punto di rottura assoluto e non credo che lui comunque andrà oltre un certo limite perché significherebbe spezzare l'idea che ha di se stesso, come di una persona che sta facendo queste cose non per vendetta ma per cercare una riconciliazione, per cercare di sanare il trauma che secondo lui ha anche la sua famiglia. Quindi quando diceva ci sarebbe abbastanza per due libri non stava dicendo attenzione eh guardate ancora tanto da dire se non mi venite incontro. È un ingenuo, è un buono anche se finisce per fare cose cattive, è un bambinone. Stava solo dicendo effettivamente il libro poteva essere più lungo e poi ha parlato infatti del viaggio in Nepal, ha tolto tante cose, forse era un tentativo di dire io in fondo sono stato buono perché potevo dire di peggio. Questo sì, però non che nel prossimo libro potrei inserirle queste cose se mi fanno arrabbiare. Questo non l'ho percepito dal contesto dell'intervista, da ciò che ha detto. Magari sarete in disaccordo con me, magari invece adesso che vi ho letto i passaggi specifici concordate e avete cambiato idea, il mio invito rimane sempre quello di quando vedete questi titoloni andate a cercare, aprite l'articolo e andate a leggere all'interno perché in genere oltre il titolone scandaloso comunque i giornalisti più o meno cercano di indicare come sono andate davvero le cose o di riportare i passaggi integralmente in modo che uno si possa fare un'idea più chiara e veritiera di quello che effettivamente la persona voleva dire. Mi sembra sempre utile in tutte le situazioni, sia che parliamo di gossip sia soprattutto che parliamo di faccende più importanti. E questo è tutto per oggi, vi ricordo che se vi andasse di comprare Sper potete farlo dai link presenti nella descrizione del mio video, in quel modo a me arriva qualcosina. Oppure se questo libro non lo volete comprare, vi piace il mio canale, vi piacciono questi video che sto facendo, cliccate sul sui link di affiliazione presente nella mia descrizione video e comprate quello che volete da quei siti, Amazon in particolare, a me arriva sempre una piccola commissione. E poi appunto ditemi che cosa pensate di questi video, vi sta piacendo la modalità un po' più breve, oppure preferite i video mega lunghi? Fatemi sapere, vi ringrazio tantissimo di avermi seguito anche oggi e alla prossima!